Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo di nuovo su Bindlishers Ghost of New Eden per continuare la nostra storia Allora siamo qua sempre con Red, nel villaggio che abbiamo scoperto nell'ultimo gameplay Procediamo, dobbiamo renderci utili, aiutare le persone del villaggio con i loro problemi Ok, si scende di qua, benissimo Ok, pinza e martello, vediamo cosa c'è scritto, non mi fa leggere, perché? Adesso sì, bene Mio caro amico Fabbro, il cerchio della ruota del mio caro continua ad essere rotto, mi parlo di capire che sareste dovuto occuparvi voi C'è qualche problema? L'apra la signora, prima non fate meglio è, grazie di cuore Acqua salata, sta pulsando, rivela Sì, ho capito, tutto mio, sì, sì, è tutto tuo, ti lascio tutto, non preoccuparti Guarda proprio cattivo Allora, prendo qua e adesso guardiamo qua, ispeziona la prova La punta del trapano è, non ho letto Qua è chiuso Qua c'è un'altra cosa, ispeziona È priva di strumenti E quindi Lei può fare qualcosa in più Ispeziona Un fabbro scarso Le case stanno cadendo a pelle, ci si avevano dei chiodi per ricostruire, li aspetto prima possibile, le evita le porcherie dell'ultima volta Pensavo a fare il tuo lavoro, pelle dura, che ricordiamo che è la sorella della tipa dell'ultimo gameplay che ci voleva sparare Qua non si può entrare, di qua si può entrare? No, non mi fa entrare Ah, qui Ispeziona Sono dei passi Ma come finisce? Non l'abbiamo finito? Ah, forse di qua Chi è questa? Forgive me Buongiorno signorina Red McCraight Signora, neppuratore Scotsman Lei è Nelly, benissimo Un amichevole londinese Già mi piace Ok Vostro marito è qui La forge è vuota La forge è buona, senza strumenti Non c'è idea di perché Non c'è strumento 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 Un scopo Un ghost Che pensi di questo? Che pensi di questo? Che pensi di questo? In che senso, Red? Come va la vita nell'accampamento? Vabbè, chiediamolo, magari è importante per dopo. Benissimo. La bestia ci spaventa. Non l'avete mai vista, comunque. Pelle dura. Come si fa a chiamare Pelle Dura? È nata una bambina, come la chiamiamo? Pelle dura. Ma vabbè, hai dei problemi. Però c'è un soprannome, però. Pelle dura, Newsmith. Kate? Che è la sorella di Pelle Dura. Kate Newsmith, non è normale. Non c'è una bambina, non so. Posto di un altro nome, tipo Kate. Anna. Anne. Nelly, come lei. Indietro. Mostratemi i vostri beni. Vediamo i vostri beni. Che beni ha? Attrezza tu. Vestito nuovo. Vestito. Posso comprarglielo? La tua borsa. Prezzo 800. Ma tu sei fuori di testa. Sei matta. Niente. Dov'è tuo marito? Eh, l'ho detto che è andato a fare una riparazione esterna. A domicilio. Dov'è a fare su quattro occhiotti. In cerca di materiali. Addirittura. Vabbè sì, avrà salvato il matrimonio, ma... Non può essere lontano, lo trovatelo. Abbiamo trovato le impronte prima, sicuramente nelle sue. Possiamo anche guardare... Addio. Possiamo guardare in casa, eh. Ci guardiamo in casa, ragazzi. Beh, certo, va bene. Ciao Nelly. Aspetta che ti frugo un attimo in casa. Ma non mi... No, aspetta. È aperta adesso la porta. Perché mi hai detto, certo, non c'è problema. Quindi è aperta. Benissimo, apri. Ah, da qui. Ah, da qui. Qui c'è qualcosa, eh. Qui c'è qualcosa. Aspetta che faccio così. Leggi. L'Ao del Signore, 1694. È la pena dobbiamo vedere le Firefox. Esca nella Torre delle Colonie. Lettera del mio marito, signor Nate. Per passare la nostra corrispondenza. Per passare la faccia... Va bene, ok. Così il motivo perché sono venuti qua da Londra. Leggi. Qualcosa... La Bibbia. Ho trovato un amico, un vero amico, un uomo che ha commesso... Che ha commesso peccato, ma che non vuole il male di nessuno. Vabbè. Vine... Ah, ha conosciuto... Ah, no, è ok. No, non pensavo lo tradisse, invece no, penso che abbia... Parlava del Fabbro. Prendi. Cuoio. Li rubiamo le robe alla signora. E qui vediamo cosa c'è. Ispeziona. Ho un presagio. Esegui il rituale. Rimembranza. Svela un eco. Vediamo se è giusto. Un po' di terra sopra, così. Condito il tutto. È giusto? Sì? No. 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 fortium si chiama si chiama fortium fortune ok è uscito ragazzi cos'è una rima? rivela onda energetica fatta di qua qua sta rorge di fallen order sta cosa saliamo o la delasto vas un po' come volete mostra la tua varia un fantasma perseguita a fortune così ne continuiamo a seguire le impronte oh qua ci sono dei fantasmi ma dove è andato sto fabbro? è tornato a londra a piedi? oh ci sono mega lupi ragazzi attenzione attenzione questo è proprio cattivo eh grosso e cattivo eh ascolta ti dè pure un attimo qua perfetto lui è andato adesso sei solo tu che non vali nulla a posto c'è anche c'è anche te no continuiamo a saltar fuori ragazzi sì sono fatti sei tu il fabbro e lei il fabbro mi scusi fortun sì è lui il fabbro thank you ok lui è fortune eravamo sì purtroppo eravamo sì purtroppo siete il fabbro dell'accampamento are you busy? are you busy? credo che sei è un'altra cosa che cosa mi sono alla fine un'altra cosa come un'oceno di stupide blu di salati Allora Nelly, come vanno così? Praticamente è un contratto in una foresta di un tipo, gli chiedo come vanno le cose a un suo amore, non l'ho mai visto, vabbè. Non ce lo vuole dire? Ah così Non ce lo vuole Non ce lo vuole Non ce lo vuole Non ce lo vuole Romance è buono per un uomo Romance è non Io Ho aiutato con una cosa C'è magari Red Farti i cazzi tu hai un certo punto Tu vuole parlarne ma andiamo a profondi Ma va bene Io non gliel'avrei chiesto Ma hai insistito Va bene Che ci fate voi qui Che ci fate qui Non c'è nessuno Non c'è nessuno E tu non c'è nessuno E tu non c'è nessuno Ho bisogno di camminare Un po' di fresco Un po' di luce Un po' di forza Beh è scuro e caldo Non c'è nessuno Non volevo essere una preoccupazione Tutti piaceremo A camminare in città E' un po' di caldo E' un po' di caldo Sono infestati Cioè praticamente i sogni Di qualsiasi operaio bro Vivendo i suoi miliardi Gli strumenti hanno ucciso Vostra moglie La forgia Resterà infestata Ah vi hanno detto Di uccidere Ho sentito le vostre preghiere Coincidence? Mi sono convertito Era cattolico Era cattolico Adesso è protestante Non lo dirò Anima viva Non sono qui per voi Non lo dirò Anima viva E' un po' di caldo E' un po' di caldo Sì Sì Assolutamente Grazie Banisher Grazie Grazie Ok Di solita Rivela 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 Non si trova Nella cassa Peccato A Vabbè Reclamata La forza E tutti gli strumenti Nel suo interno Vabbè E quindi The back door Perfetto Perfetto Seguiamo Sì ma Scusami Devo andare dove? Non abbiamo fatto rivela Siamo stupidi Bravissima Anatea Andiamo Andiamo Ora andiamo Sta mentendo E' perseguitato Sta mentendo Non è un blacksmith Non è mento Non è mento Non è mento Non è mento Non è un problema Non è un problema Nelly Chi è? Cos'è stato? Sono stato questi Che gli spacchiamo su Il capobranco Sono io adesso Il capobranco qui Percepisco qualcosa Di vicino Ma aspetta Qualcosa di vicino Lo intendeva qua Qualcosa di vicino Qui c'è qualcosa Ragazzi Togli Ah ok Abbiamo preso Comunque un po' di roba Proseguiamo Vediamo di trovare Sto fantasma Col martello Qui c'è ancora qualcosa Prendi Benissimo Cerchiamo di raccogliere Tutto il raccoglibile Anche lì mi segnala qualcosa L'attraversario Ragazzi Vediamo se qua Vediamo se qua No Vediamo di qui Ok Ok Possiamo purificarla In qualche modo No Ma quale trappola Sta parlando di che cosa Oh scendiamo Vediamo Ragazzi Non lo so Proviamo Ok 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 Spettor position Spettor position Ok 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 No Abbiamo mancato Va bene Va bene Va bene Mi agganci lui Per favore Red Ready and waiting Spacchiamo su tutti Ready and waiting Posto Sì ma vorrei capire Cosa Dove Dove devo andare Ah qui Ispezione Nelly Ti ho warnato Ti ho warnato Che questo Sperò ancora No Guarda Guarda Sì Sei Pathetic Perfetto Abbiamo un'altra Anima per Antea Ragazzi Lui è il secondo Ha giudicato Ha 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 You sona Elizabeth Luxford You are mine And I'd sooner see you dead and cold than let you leave What's going on here? Walk away lad This does not concern you Ah, credo che lo fa Cosa vuoi fare? Non era... Cioè, Fortune era là Ah, ho capito adesso Esatto Ok, parliamo col suo fantasma, ragazzi Che era questo Manifesta il tipo Manifestazione Ma quindi? Ah, è là, non avevo visto, ragazzi I nomi sono proprio da videogioco, ragazzi O da film, perché Antea Duarte Red McCrae Nulla di buono Niente da parlare con i morti Ah, si è stituito a lui Il tipo ha preso la sua identità Perché sei qui? Perché sei qui? Ok, stai facendo impazzire il fabbro Cosa ti è successo? No? Mi ha fatto uccidere da lui. Non è ciò che ho visto. Addio. Un omicidio, un omicidio. Esatto. Quindi devo tornare da loro? Ok, ragazzi, siamo tornati al villaggio. Rieccoci. Vediamo di trovare di nuovo la forgia. No. 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 Il vostro segreto è svelato. No. No. Come sappiamo che possiamo crederlo? Non. Ma dovremmo prendere la possibilità. È tempo. Vorrei sentire la vostra versione. No. Nessun rimpianto? No. 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 Chi siete? Un ladro fuggiasco? No. 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 Il corpo del tuo marzo roteva sul luogo oceano e il suo ghost ha seguito tu qui. Ho ridotto di lui una volta. Che cosa prenderà di farlo una seconda volta? Che cosa prenderà di Fortuna Heighton? Morto come vivo, sei un ragazzo. C'è tempo per andare. L'ho fatto. È la mia. Ho construito tutto. E loro lo prendono da me. E ora il tuo lavoro e il tuo nome dovranno passare ad Arthur Carty, mentre ti entrai l'oblivion. Nellie guidae la forza, e una migliore versione di Fortuna Heighton va camminare il mondo. Io sono Fortuna Heighton. Sempre ero e sempre sarà. Non più. Addio. Non c'è nulla per te. Ok ragazzi, pinza e martello, quasi l'infestazione concluso. Si, se n'è andato. Molto bene ragazzi, gli abitanti del bosco parla con Kate. Grazie per essere rimasti con me fino ad ora. lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e alla prossima. Ciao ciao.